C'è un contadino, è nel campo che lavora, a un certo punto gli scappa da piscià, sicché va dietro a un cespuglio, inizia a piscià e mentre lì che piscia arriva una vespa e lo pinza sulla fava, sicché dè, questo inizia a urlare oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio questo si alza e la moglie vede una fava così grossa tutta gonfia gli fa dottore 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 senta il dolore glielo faccia passare ma il gonfiore lasciamolo lì dov'è